In questo progetto svilupperemo delle metodologie per monitorare la trasmissibilità di Covid-19 in Trentino. Lo scopo di questo progetto è duplice, da un lato utilizzare queste stime per informare dei modelli di trasmissione di Covid che permettano di capire come ripartire essenzialmente, quali sono le attività che possono essere riaperte e quindi uscire dal lockdown però in maniera sicura senza far ripartire l'epidemia e dall'altro le stesse tecniche di monitoraggio serviranno esattamente allo scopo di monitorare dopo il lockdown cosa sta succedendo in termini di trasmissione epidemica in modo da poter capire il più presto possibile se le cose stanno andando bene o stanno andando male e se sia il caso magari di fare qualche passo indietro.